Ben ritrovati, questo è un video della serie Un video al giorno toglie il ciarlatano di torno, parlo quindi di alimentazione e oggi il focus, il tema è quello dei legumi. I legumi purtroppo non sono mangiati frequentemente, non compaiono frequentemente sulla tavola in questo paese e anche in molti altri paesi europei, invece sono importanti, sono un costituente rilevante della dieta mediterranea e quindi vale la pena di spendere due parole sui legumi. I legumi non sono verdura propriamente detta, i legumi li possiamo considerare un eccellente sostitutivo della carne o delle proteine animali, sono proteine vegetali presenti nei legumi in quantità rilevante, ci sono carboidrati in quantità più o meno variabile a seconda dei legumi, ci sono proteine, alcuni legumi sono particolarmente ricchi di proteine, ad esempio i lupini hanno una discreta quantità di proteine, ma anche gli altri legumi e quindi posso ricordare i fagioli, le lenticchie, i ceci, le fave, i piselli, la stessa soia che è poco utilizzata in quanto tale. Sono più utilizzati i prodotti dove c'è dentro la soia come alternativa a prodotti classici, ma la soia intesa come legume come potrebbe essere il fagiolo, il pisello, il cece, la fava non sono utilizzati così spesso. Bene, eccellenti per sostituire la carne o le proteine animali, cosa vuol dire? Vuol dire che uno li mangia come pietanza, come secondo piatto, un bel piattone di legumi misti o di un tipo, se piace più un tipo rispetto all'altro, ovviamente vanno cucinati per renderli più palatabili, più buoni, con qualcosa che li rende più piacevoli al gusto, ma possono essere utilizzati anche insieme alla pasta o al riso o nel minestrone. Ovviamente in questi casi, considerando che comunque hanno una certa quantità di carboidrati, che comunque apportano una certa quantità di calorie, va ridotta in maniera rilevante, va dimezzata, io dico per semplicità, va dimezzata la quantità di pasta o di riso se uno ci mette insieme fagioli o piselli o altri tipi di legumi. Quindi non può uno mangiarsi un piattone di pasta e poi un piattone di legumi, altrimenti il carico di carboidrati è eccessivo, il carico di calorie è eccessivo. Ora vi dicevo i carboidrati, la quantità di carboidrati grosso modo dei legumi che ne contengono di più è 25-30 grammi per 100 grammi di alimento pesato crudo, come si fa di abitudine quando si vogliono fare questi tipi di ragionamenti. La quantità di proteine può essere di 10-15 grammi, nel caso dei lupini ad esempio si arriva ai 15 grammi di proteine per 100, anche i fagioli ne hanno più o meno 10 grammi. Grassi nei legumi non ce n'è, questo va molto bene, ci sono invece un po' di vitamine, un po' di sale minerali, ad esempio un po' di ferro che sicuramente non guastano, ci sono delle sostanze antiossidanti. È stato visto che per il loro apporto nutrizionale le persone che mangiano più legumi hanno un minor rischio di morire, hanno un minor rischio di sviluppare diabete, hanno un minor rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e anche un minor rischio di sviluppare tumori, ecco perché dico che dovrebbero esserci nell'alimentazione quotidiana o almeno settimanale. Ci sono calorie, non tantissime, grosso modo se ragioniamo di alimenti freschi, perché se parliamo di quelli secchi dobbiamo duplicare o triplicare la quantità di calorie, grosso modo siamo sulle 100-150 calorie per 100 grammi con i fagioli ceci, perché non me le ricordo tutte, fagioli ceci lupini sono fra le 100-150 calorie per 100 grammi, decisamente di meno nel caso di piselli e fave. Anche le lenticchie valgono come i fagioli, i ceci o i lupini, cioè hanno più calorie, per cui va tenuto conto di queste calorie quando si appronta un piano nutrizionale che deve portare a definire qual è l'apporto calorico giornaliero adeguato per quella persona che deve mantenere il peso o perdere peso, cosa non rara, e consuma quella certa quantità di energia con la sua attività lavorativa, con la sua attività extra lavorativa. Vi ho detto che c'è una diversità fra il prodotto secco e il prodotto fresco, chi ha voglia di entrare nei dettagli può andare a guardare le tabelle nutrizionali e vi fa la differenza fra il prodotto fresco e il prodotto in scatola, che a volte è un po' diverso rispetto al prodotto fresco che uno prende dal market e che è diverso dal prodotto invece secco, che essendo disidratato ovviamente ha una maggiore concentrazione poi di calorie. Detto questo, bene i legumi, mangiarne di più per migliorare la situazione delle arterie, per ridurre un po' il rischio di diabete, per curare bene il diabete, ovviamente devono essere sostitutivi di altri alimenti, se uno pensa dall'oggi al domani di aggiungere i legumi a quello che sta mangiando e non cambia niente del resto, cosa succederà? Succederà che aumenterà di peso e chiaramente nella stragrande maggioranza delle persone questo non è desiderabile. Per cui come sempre le quantità sono importanti, il mix dei vari alimenti è estremamente importante, la distribuzione nel corso della giornata e della settimana, variando, alternando, è estremamente importante. Ci sentiamo in un'altra circostanza. Arrivederci.